...la meglio che... ...la meglio... ...hanno dei prodotti che lui... ...suprezionale... ...comunque ogni posto ha la sua cucina buona... ...un pelano dei sapori che... ...è modena... ...noi però abbiamo... ...la zuffina... ...la zuffina... ...ma non amere... ...la bambini... ...la bambini... ..."izza ok variety... ...locca o noiro... ...non aspetto noire alcuna di casa... ...sabez in più tabлич. Liable a ciò... ...dessi vedere... ...la bambina si puòising... ...o ascoltate. No, perché dopo dovete colorare. Io ho fatto una bambina. Allora io posso partire a velocità, perché se no è pilotto. E tu che le metti vestiti come a me, come le colori. Non vi asciugatene a grembiule. Io posso asciugare? No, perché dopo ti finisci un accidente e te lo tieni adesso bagnato. Asciugatevi nella carta da giornale. Anche tu puoi. Finirli. Aspetta un altro po', aspetta un altro po'. Papi! Aspetta, dammi stupendolo qua. Posso? Dai, muoviti Alice. Guarda, se c'è un pennello, guarda. Tutti vedono che bisogna fare. Il primo che lo finisce, il primo che lo finisce il pennello, usa il pennello. Te lo faccio io, Alice? Eh? Il pennello che lo do io. Sì. Guardate un po'. Con ricordi che si asciugo, aspetta che lo fico bene. Lo fì, è tutto il pennello. Está tomano che lo fico bene. Care lo faccio io, va bene? Vieni bene, coprivi bene. Vita, lo sai che non ho né il rosso né il coso io? Vieni bene, coprivi bene. Vieni bene, coprivi bene. Vieni bene, coprivi bene. Vieni bene. Vieni bene. Vieni bene. Allora vale per tutti i genitori. Tra due giorni gli date la lacca per capelli e si fissa tutto. E non aspetta. Soprattutto chi c'è? Porti il burattino domani sera, chi c'è? Io ci sono. Nena stai lontano con i capelli. Soprattutto chi c'è? Non ti ha detto lui? No, prima nel cartano base. È bianco del barco. Guarda. Tutto? Tutto tutto? E' un papà che ti fa un lavorino. Te lo vado a lavare sotto la... E' sotto i sedili. E' un po' di scegliere. E' un po' di scegliere. E' un po' di scegliere. E' quello che sta meglio.